Eccoci qui a Cumiana, da una parte i pirelli, ecco qui invece gli altri pivelli e dopo questo squalido gioco di parole Il prosti oggi praticamente sull'asciutto perché la pirelli scarica bene Un signore ci ha detto che potremmo trovare neve sui sentieri Quindi adesso ci avventuriamo in questa discesa Andiamo sotto a perciarvi su queste pappe Andate sotto Ultima vista Ma guardarlo tanto penso non mi serva Merda Oh yeah boy Quando ho visto la pozza ho mollato tutto perché ho detto la pozza frenerà Scottish style Beh scappini cosa... Magari un augurio a Rino Il foglio è che si è messo l'obbligamento tecnico per la discesa Notiamo una notevole differenza di tutta prima Grave pecca non aver messo i pantaloni bianchi al prosti Faito club ogni tanto anche usati in bici Oh man Bravo Siamo un po' dubbiosi su... non lo so Comunque non sentirsi i piedini non è carino Salve Salve Questa non